Un saluto e un benvenuto a tutti gli amici di GizChina.it Quest'oggi dopo aver analizzato Meizu MX6 e Verni Apollo Lite nelle rispettive recensioni ne mettiamo a confronto in quello che è il test AnTuTu Benchmark quindi abbiamo Meizu MX6 e il nostro invece Verni Apollo Lite vi ricordo che entrambi i dispositivi sono dotati di un hardware pressoché simile infatti abbiamo Mediatek MT6797 alias Helio X20 4GB di memoria RAM, 32GB di storage interno e GPU Mali T880 MP4 con clock a 700 MHz ma non perdiamo altro tempo e guardiamo come si sono comportati nel nostro confronto AnTuTu Benchmark Grazie a tutti! 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 Sì 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 Sì